Carissimi amici e amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale. La giornata di ieri, per quanto riguarda il caso Resinovic, non ha registrato alcun tipo di novità. Insomma, resta questo mistero, non si fa nessun passo in avanti. Restano questi codici, restano questi messaggi, ma restano d'altronde anche quelle suggestioni legate ai codici segreti di Trarquadro, riferiti dal fratello Sergio. Non si è mai dato una spiegazione a nulla di questo. Quindi c'è un po' soltanto, letteralmente, brevemente, da tirare le fila di un discorso. Quasi dei titoli di coda, perché si era gridati allo scoop, ma poi, come avete visto, è veramente... non si cava un ragno dal buco, perché le cose, invece di semplificarsi, si fanno a complicare. Quindi, sostanzialmente, si attende la dottoressa Cattaneo, che, entro fine anno, metterà la parola fine con la sua superperizia. Una superperizia che, per quello che io so, per quello che filtra, metterà ancora più dubbi di quelli che c'erano prima, nel senso che non potrà essere di rimente sul fatto di sicuramente suicidio o sicuramente omicidio. Sicuramente c'è soltanto una mostra per asfissia, per cui, in entrambe le ipotesi, non ci sono gli elementi per incolpare alcuno per induzione al suicidio o per omicidio. Soltanto si dirà, se si propende per l'omicidio, ad opera di ignoti e così è. L'imbuto emotivo non viene nemmeno più accennato, perché, vedete, nella prima versione di archiviazione si diceva l'imbuto emotivo, ma adesso si accredita un imputo emotivo che non esiste, secondo la versione prevalente, perché si dice una donna felice, una donna che voleva andare a cambiare vita e quindi di quale imbuto si poteva trattare. Vedete, per cui si concluderà per ipotesi tecniche di compatibilità. Ecco, si parlerà molto di compatibilità senza poter stradere delle ipotesi effettivamente molto precise. E quindi la procura finalmente potrà aschipiare con motivazioni certamente non meno strane, diciamo, tra virgolette della prima volta, perché la prima volta appunto si diceva scriviamo perché la donna magari era così coinvolta l'imbuto emotivo, eccetera, ora si dirà potrebbe essere suicidio, non si sa perché, oppure omicidio, non si sa perché, causato da asfissia. Però in assenza di elementi appunto che portino alla colpevolezza di qualche persona per cui sia in ipotesi di istigazione che in ipotesi di intervento fattuale è automatico che avversa la scriviazione. Questo triste epilogo da una parte dispiace perché non è stato indagato a 360 gradi e non sono state verificate tutte le ipotesi che si dovevano. Però da un'altra parte fa piacere, almeno personalmente, perché si mette fine, insomma, alla mancanza di rispetto e di dignità per questa donna che io mi ricordo i primi tempi una donna seria, una funzionaria regionale, una donna molto riservata, voluta bene da tutti. Cioè, poi alla fine alla fine la si dipinge così come la donna frivola che va qua, là, passa ora a casa dell'amante, le laiacuzzi, le coppie, c'è il De Camerone, ma veramente la cantinola, la soffitta. Quindi, quindi perciò alla fine meglio così, meglio così che continuare su questa deriva. Quindi, poi alla fine anche questo quadro che si delinea di questi cosiddetti messaggi delle ultime settimane non fa altro che intorpidire le acque perché va a gettare maggiore mistero, se diciamo così, su questa vicenda che questa vicenda che si voleva spiegare con un'equazione semplice, no? amore e amore e come è previsto, come da me è previsto, tanti, tanti messaggi in questo modo sono diventati un boomerang che invece di chiarire la vicenda non ha fatto altro che complicarla, per cui non resta secondo me che mettere la parola a fine non resta questo. Dispiace, dispiace che debba finire così e nessuno, nessuno di questi chiamiamoli protagonisti a modo loro ne esce ne esce bene nessuno perché ognuno si racconta le vicende a modo suo mettendo diciamo più in mostra diciamo il meglio di sé per la platea e non quelle che potrebbero essere i veri interessi della vittima. C'è un marito ad esempio che continua a sostenere il suo amore idilliaco e di non conoscere nulla del mondo che girava intorno a lui insomma distaccato completamente ma ci sono anche gli amici gli amici che ognuno dal proprio punto di vista dipendica di essere i migliori amici il migliore amico la migliore amica dipendicando un rapporto privilegiato eccezionale con la vittima ecco c'è c'è un posticino a parte per il covalero per Fulvio covalero che è rimasto ancorato all'immagine sognante diciamo così dei tempi del liceo ci sono i familiari i familiari sconvolti addolorati increduli davanti alla morte di Liliana che però non vedono altro che in una sola direzione che porta alla colpevolezza dell'odiato Sebastiano e infine Serpin per me un amante nella sua immaginazione che che ha una ha una relazione sicuramente chiamiamola relazione con Liliana che non ha non ha gli aspetti dell'amore assolutamente che e che diciamo nasa un'evoluzione in un primo momento di quest'amore che 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 sboccia al cimitero questo fine di agosto anzi sboccia una conoscenza un incontro dopo tanto tempo che non si vedevano mentre l'amore addirittura lui lo collocava al 25 di ottobre 2021 questo amore ricambiato lui lo collocava al 25 di ottobre 2021 dopo quel fatidico messaggio sono 42 anni che ci conosciamo ricordate e dice solo con quel messaggio finalmente mi ha conquistato però ecco mentre l'analizzazione va negli ultimi mesi salvo accorgersi di essersi dimenticato tra virgolette che invece da anni poi risulta da anni che si scambiavano una sorta di migliaia di messaggi in modo criptato in cui secondo la sua interpretazione c'era già questo amore amore ai massimi livelli quindi una cosa da lui negata e postata agli ultimi mesi che invece già viveva prima per modo dire quindi è tutta una contraddizione sulla quale non vale la pena nemmeno ritornare quindi aspettiamo il deposito della Gattaneo e quindi speriamo che per la fine dell'anno finisca questa triste storia che non ha dato giustizia non ha dato giustizia fino in fondo a Liliana De Sinovic forse perché non si è avuto il coraggio l'abilità la fortuna di cercare la verità con la lettera maiuscola la verità andava cercata a mio modo di vedere come dire avendo coraggio ecco coraggio di di guardare al di là della siepe al di là dell'ostacolo è stato seguito in un senso unico a mio avviso che ha portato nelle sabbie mobili questa inchiesta non rimane altro ecco non rimane altro e dispiace quindi vedremo se ci saranno qualche novità e speriamo appunto che la dottoressa Cattaneo una volta depositata questa relazione finale la procura la valuti e quindi disponga la scriviazione è il migliore il meglio forse non non quello più giusto ma il migliore almeno per ridare l'onore il silenzio la dignità a questa donna che che certamente l'avrebbe meritata ben prima grazie questo mi sento di dire oggi condividete il video grazie un abbraccio a tutti quanti voi grazie